considerando che sono ormai diverse settimane che murigno ha fatto capire in maniera neanche troppo velata che la rosa ha bisogno di essere rinforzata non possiamo stupirci che già qualche giorno prima dell'inizio del calcio mercato invernale escano fuori 10.000 nomi di 10.000 acquisti 20.000 cessioni che stravolgeranno completamente tutta la rosa giallorossa cercare di trovare in tutte queste notizie un fondo di verità o comunque una luce in fondo al tunnel non è facile io sto cercando comunque di affidarmi a quelle notizie che mi sembrano più veritiere sia in termini comunque di spesa ma anche di ingaggio di volontà del giocatore eccetera eccetera infatti finora potete vedere direttamente dai miei ultimi video non ho fatto nomi clamorosi come insigne o paredes considerando l'ingaggio eccetera eccetera ma sono rimasto più o meno nella normalità con i vari frattesi camarà maitland niles dell'arsenal di cui comunque stanno parlando tutti quindi sto cercando di darvi la verità per quanto neanch'io la conosca al cento per cento mi affido comunque a quello che leggo sperando appunto che prima o poi si arrivi a un qualcosa di concreto nel minor tempo possibile detto questo allora volevo fare questo video perché ho letto in queste ultime ore che la roma ha cambiato obiettivo per quanto riguarda il centrocampo non ho parlato ci ha pensato il mio collega Joe Giant su un suo video penso di ieri adesso non mi ricordo di Loftus Schick giocatore attualmente in forza al celsi perché nonostante ci siano tante voci a riguardo non può arrivare se arriva maitland niles dell'arsenal in quanto c'è questa regola che in un anno tu puoi acquistare solamente due giocatori extra comunitari essendo l'inghilterra fuori dall'europa praticamente tu sei costretto avendo già preso ebram la scorsa estate a sceglierne uno quindi o prendi quello dell'arsenal o prendi quello del celsi non li puoi prendere entrambi neanche volendo fatta appunto questa precisazione passiamo appunto a camara un giocatore che mi piace tanto un giocatore giovane di 22 anni che è praticamente cresciuto nel marsiglia dove ha giocato praticamente dall'inizio della sua carriera fino ad oggi un giocatore che ha quelle caratteristiche che potrebbero far comodo alla roma e quella questione del doppio ruolo che piace tanto a mister murigno l'abbiamo capito già appunto dal probabile acquisto di metland niles che è un giocatore che può giocare se sulla faccia che a centrocampo mentre invece per quanto riguarda camara diciamo che c'è il doppio ruolo difensore centrale o mediano davanti la difesa in quanto il giocatore ha iniziato la sua carriera come difensore per poi essere spostato col passare degli anni come mediano vista la sua bravura diciamo nel gestire palla e nel fare lanci importanti per i compagni offensivi l'affare non è facile lo dico fin da subito perché essendo un giovane prospetto considerato tra i migliori di tutto il campionato francese non siamo certo l'unica squadra interessata ad acquistarlo visto soprattutto che anche questo aspetto da non sottovalutare ha il contratto in scadenza questo giugno quindi il marzia ha bisogno di cederlo a gennaio per prendere un po di liquidità e secondo me visto il potenziale del giocatore fossi loro sarebbe propenso ad accettare una offerta monetaria piuttosto che perderla a zero e poi magari rimpiangere questa cessione col passare degli anni come ho detto un giocatore che per caratteristiche secondo me sarebbe l'ideale in casa giallorossa perché attualmente ci manca proprio un giocatore che riesca a dare del tu al pallone ogni tanto cristante è anche riuscito a fare prestazioni positive gestendo palla magari con qualche lancio con qualche assist per i compagni del reparto offensivo però non lo vedo tanto nelle sue corde cioè se io devo trovare un ruolo a cristante non è certamente il regista per intenderci ma è più un giocatore che comunque fa in contrasti in mezzo al campo che ogni tanto magari quel calancio te lo fa però non è secondo me quel prototipo perfetto di giocatore che serva alla roma considerando il reparto attuale sicuramente è il migliore può fare questo ruolo meglio dei vari di avarà di yar d'arbo eccetera eccetera quindi capisco la scelta di morigno di farlo giocare sempre ma credo che lo stesso portoghese sappia che in quel ruolo serve un tipo di giocatore diverso e camarà sarebbe perfetto non solo appunto per una questione di caratteristiche ma anche per la giovane età perché tu lo andresti a prendere se ovviamente superi la concorrenza delle altre squadre tra cui il manchester united spendendo meno rispetto al suo reale valore ed essendo un giocatore giovane c'è la possibilità sempre che la piazza lasci lavorare in pace i giocatori e non si aspetti di vedere nelle prime giornate il cantè della situazione di rivenderlo più avanti ovviamente dopo che ha dimostrato le sue qualità con la roma guadagnandoci una cifra importante non lo dico perché voglio che la roma ceda tutti i giocatori che diventi comunque un come si dice un tramite cioè un giocatore arriva e se ne va arriva e se ne va è chiaro che comunque più costruisci nel tempo è più importante però come ho detto tante volte non è solo importante cedere ma anche acquistare bene quindi se tu cedi nella maniera corretta e acquisti giocatori importanti comunque puoi restare su alti livelli anche magari rinunciando a giocatori importanti la stessa juve nei suoi primi anni di campionato non è che in cui ha vinto il campionato scusate non è che ha mantenuto gli undici fissi sempre ha ceduto negli anni vidal pirlo tevez violente ma li ha cambiati in maniera positiva dal momento in cui non è riuscito più a cambiarli bene prendendo giocatori secondo me sopravvalutati avete visto quello che è successo quindi non è per forza obbligatorio che tu undici li tieni per dieci anni ma è importante che quando c'è una o due sessioni da fare tra i titolari che vengano sostituiti in maniera adeguata chiusura della questione perché la roma ha un piccolo vantaggio rispetto alle concorrenti innanzitutto per i rapporti positivi con il club francese in quanto negli anni comunque gli abbiamo dato diversi giocatori della nostra squadra ricorderete qualche anno fa strotman poi paolo lopez e honder che attualmente vestono appunto la maglia del club francese non so se anche strotman è ancora di proprietà del marzia ma comunque avete capito com'è la questione e si parla addirittura di un interessamento del club francese per diavara contenti loro ecco adesso non so quanto sia attendibile questa cosa però è chiaro che se tu hai già migliorati i rapporti con queste cessioni che gli hanno permesso comunque di avere giocatori sostanzialmente validi visto che paolo lopez e honder finora stanno facendo molto bene è chiaro che hai più possibilità soprattutto poi se magari hai anche una contropartita da dargli al posto di camarà perché se effettivamente a loro piace diavara fa anche rima anche se i giocatori sono leggermente diversi puoi darglielo abbassare il prezzo del cartellino di camarà e avere un vantaggio magari rispetto a altre concorrenti anche in questo caso non è facile perché da quel coletto il manchester united potrebbe proporre martial al marsiglia giocatore in uscita dal club inglese e lì sarebbe difficile cioè fa ridere che tutti i presenti io ho camarà tu cos'hai da offrirmi io ho anthony martial e tu io ho ma tu diavara però ti prego dai abbiamo dato già paolo a pezzender prenditi anche anche diavara ti prego ma a parte le cavolate quindi è chiaro che se il manchester dovesse pressare anche a livello economico per questo acquisto le cose si potrebbero complicare però proprio per questo motivo la roma deve procedere d'anticipo deve subito capire la volontà del giocatore se è possibile appunto avere il suo ok per il trasferimento con la maia della roma e poi magari sfruttare il fatto che i francesi ti devono comunque dare i soldi del riscatto di paolo a pezzender per abbassare ulteriormente il costo del cartellino di un giocatore già in scadenza questo secondo me sarebbe un grande acquisto un giocatore di livello un giocatore che può ancora crescere tantissimo e che ti può fare anche in doppio ruolo non è che adesso tu lo devi prendere per fargli fare il difensore però visto che attualmente abbiamo quattro centrali e stiamo giocando con la difesa 3 avere uno che sappia fare quel ruolo sarebbe fondamentale anche se comunque deve diventare una soluzione più di ripiego e non definitiva spero che abbiate capito il senso del mio discorso vedremo un pochino quello che succederà se ne stanno dicendo tante quindi come vi ho detto non riesco a diciamo a trovare la verità assoluta purtroppo non ho conoscenze non ho persone che sono all'interno dell'ambiente che mi dicono questo e quell'altro quindi mi baso su quello che leggo e sulle mie sensazioni in ogni caso secondo me la roma deve affondare il colpo perché ha le possibilità di avere un vantaggio rispetto a tante altre concorrenti e dobbiamo sfruttarle perché un giocatore così se riuscirà a crescere ancora di più e a confermare le aspettative che tutti quanti stanno avendo su di lui in quest'ultimo periodo può diventare un acquisto fondamentale soprattutto se consideriamo che lo andreste a prendere spendendo molto meno rispetto a quello che vale e che secondo me potrà valere non solo nel lungo ma anche nel breve periodo detto questo ragazzi allora vi invito a scrivere me qua sotto nei commenti cosa ne pensate dell'interessamento non dell'ufficialità della roma per bubacar camarà un saluto sempre comunque forza roma vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto a lasciare un mi piace di supporto e se volete seguirmi su tutti gli altri miei profili social i link li lascio come sempre qua sotto in descrizione un saluto e alla prossima ciao 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 ciao